eccoci eccoci di nuovo live dopo un sacco di tempo forse probabilmente una più di una settimana c'è stato un lavoro incredibile abbiamo fatto tante cose fra cui un sito un nuovo sito di commerce quindi che volevo presentare a tutti i miei follower poi dalla prossima settimana dipenderemo le trasmissioni in maniera regolare e quindi come sempre come sempre sigla ed eccoci qui eccoci qui come sempre live qui su twitch ma poi caricherò questo video anche su youtube e come vi dicevo volevo presentarvi il mio nuovo sito online fatto con wix che ho pubblicato insomma in questi giorni e sto praticamente tutti i giorni sto aggiungendo nuovi articoli quindi praticamente andiamo a vedere il sito quindi questo sito appunto diciamo provvisoriamente con il logo di saxando ma poi vedremo di cambiare il logo questo è un luogo che ho costruito un po di tempo fa prima prima che ne scese il progetto game over e quindi abbiamo quindi il link qui il banner con appunto il link su twitch il mio link youtube i contatti dove eventualmente contattarmi per qualsiasi esigenza questo qui è un sito affiliato amazon tutti i link che troverete sono tutti quanti link amazon prime e quindi gli articoli sono direttamente appunto sul sito sul sito poi di amazon ma tutti i link sono funzionanti quindi vi vorrei far vedere alcuni alcune funzioni del sito adesso magari mi tolgo un attimino così insomma il sito non lo vedete in tutta la sua interezza e quindi abbiamo messo la parte di appunto cpu processori quindi qua troverete processori risen e di intel quindi questi alcuni alcuni siti alcuni siti alcuni processori appunto intel quindi un i9 un i3 insomma un altro i9 insomma dovete alcuni appunto processori di tutta generazione anche processori e ryzen quindi ho aggiunto anche video musicali insomma in questo momento non non sentirete sono twitch insomma fa casino ma comunque ci saranno anche insomma anche anche della musica insomma che comunque integrata al sito e poi ovviamente nel momento che deciderete di acquistare acquistare un articolo ad esempio so questo questo i3 come vedete praticamente il sito andrà direttamente sull'acquisto dell'appunto dell'articolo suddetto appunto in questo caso abbiamo appunto amazon e il mio quindi questo è un link affiliato amazon per quanto riguarda insomma le altre cose che sto aggiungendo quindi vediamo un attimino torniamo indietro nella home page sul negozio e quindi abbiamo quindi anche schede madri quindi schede madri sempre sia ryzen sia intel in questo caso quindi ci sono due schede madri che ho inserito ryzen quindi una m6 mpeg b500 mpg scusate b550 e un asus rock asus rock e poi altre due schede madri intel questo è veramente molto provvisorio insomma ho sentito solamente alcuni articoli ma in l'inventario crescerà di giorno in giorno insomma come farò gli inserimenti sul sul sito poi ho aggiunto anche qualche case giusto un paio di chiesi questo momento due case corsair poi ma ce ne saranno insomma molti giuggerò insomma sia processori sia case insomma questo caso non ne ho tutti solo due sempre insomma articoli che consiglio articoli che mi piacciono sinceramente quindi insomma spero ma spero che apprezzate la grafica del sito e apprezzate anche insomma poi diciamo gli articoli all'interno nello stesso quindi ho messo giusto un alimentatore anzi no due alimentatori insomma in prezzo anche buono sono di 100 euro quindi insomma sono completamente modulare quindi sono due corsair 750 le due rgb veramente molto fagli anche qui insomma c'è c'è un video insomma ripeto musica anche altre cose insomma sito comunque anche interessante dal punto di vista grafico poi la sessione la sezione delle memorie il ram ddr4 in questo caso queste sono quelli che che ho io le le vengance rg però anche se io c'ho ancora le 3000 ma queste qua e l'aggiornamento delle 3600 poi abbiamo queste g skill trident z nio appunto 3008 e queste qua che anche c'erò su un altro pc insomma che pure vi consiglio le xp xpg spectrix della della data in al momento solo queste tre poi si aggiungeranno altri articoli va giusto il tempo il tempo necessario per fare inserimenti e quindi e poi accessori questo caso insomma c'è ancora molto poco insomma qua aggiungerò cuffie gaming insomma inserirò insomma tastiere insomma tappeti insomma un po di tutto adesso per il momento sono due solo due tappetini e due chiedo scusa due due mouse quindi insomma questi fra l'altro ovviamente ve li consiglio insomma se volete fare un acquisto insomma questo è un articolo insomma sta a 18 e 68 quindi vedete insomma eccolo qui 18 68 spedizione prime prato wireless quindi appunto c'è il dangle usb e c'è anche quindi la versione e la versione bianca sia nero sia bianco quindi giusto per cominciare insomma inserito a che articolo poi insomma sarà mia cura tutti i giorni serie nuovi nuovi elementi quindi veramente è una vabbè è partito un attimo partito il video ma comunque insomma insomma è veramente veramente carino io ho quello con la versione insomma col filo questo qua la versione wireless e quindi ragazzi questo questo è tutto insomma il sito poi manca la sessione attualmente dei monitor diciamo una mia dimenticanza ma in realtà insomma sono anche tante altre cose che devo inserire però insomma poi aggiungerò anche la sessione dei monitor quindi monitor diciamo che più o meno posso consigliare e quindi qua sotto abbiamo poi il video della mia postazione attualmente dove dove stream quindi insomma questo breve questo breve video tutto insomma poi lascerò il link in descrizione nella mia mio profilo mio profilo twitch quindi sembra che insomma sia abbastanza carino insomma voi fatemi fatemi sapere insomma se il sito vi piace insomma ripeto sono tutti prodotti amazon che che consiglio che potete acquistare liberamente cercherò di mettere anche molte molte offerte insomma molte cose che che potranno essere essere utili insomma a tutti i gamer comunque occhi appassionati di informatica quindi grazie vi ringrazio a tutti insomma per il momento è tutto e quindi alla prossima live un saluto da game over ciao e la prossima ciao 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 ciao